E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter e oggi finalmente siamo tornati con tutta l'Illuminati Crew Per una challenge sul calcio Allora puoi andare a casa, Gianfino Oggi il vostro caro castese è pronto a presentarvi una sfida a eliminazione Siamo qui con l'Helium Challenge Ricori con la palla Helium, guarda, è super tele, ragazzi Infatti le bestemmie da ragazzini Tu giravi a destra e la palla andava a sinistra Non solo la palla fa schifo, ma tireremo anche con il piede debole No, no Pulisciate più non posso, 50.000 like prossima challenge Eeeh, 50 No, io pensavo 50.000 like No, 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 facciamo così Facciamo così che Dexter è a dieta A dieta pulita, visto che comunque la massa la devi mettere Gli facciamo mettere massa brutta, massa grassa Quindi 100.000 like Due chili di hamburger Sotto e sporco Quindi spolli fuori 250.000 fa un incontro di box Iniziamo subito, lasciate tanti like per altri challenge Via Primo tiro col sinistro Che a te Avremo tre tiri a testa Chi farà meno tiri verrà eliminato Fino a che non ci sarà il supremo vincitore Primo tiro Un punto l'ho fatto Terzo tiro Vai a un resto D'esterno 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 No, 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 no C'è Ma quando ho fatto tutto così Magari Vale, vale, vale Ciao ragazzi sono Amato Ciciretti Mi raccomando lasciate live Perché deve mangiarsi due chili di carne 3, 2, 1 Bello È un uccello È un aereo È super jumpy A due Se sbagli sei eliminato Eh sì No, no, che Dobbiamo No, dobbiamo Dobbiamo farne nemmeno due Vado io ragazzi Tu di destra Che ammancino È pronto Di destra Bravo Hai visto che è effetto Murri se sbagli sei fuori Minchia che palle oh Giorgio Giorgio Sono fuori Ma l'ho ucciso L'importante è che non è entrata Almeno ho realizzato qualcosa di incredibile Hai eliminato Murri Andrò parte Ciao Vai Giovanni Ragazzi sono camper e per questo speciale vi dirò un segreto Salute lo mother fucker mi fa altamente schifo Hashtag e lo mother fucker nei commenti E lo mother fucker Ragazzi ma se camper sbaglia questo è fuori Ragazzi ma se camper sbaglia questo è fuori Ragazzi ma se camper sbaglia questo è fuori Sbaglia eliminato Fuori 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 Ciao camper Ad un piacere Ciao ragazzi sono Brazzocrew E oggi E sti cazzi Segnerò a desinistri con la mossa da karate Oh Traversa comunque quasi traverso se sbagli questo Sì, sei fuori. You're five. Ciao! 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 No, no, no! Mi ha messo! Ho messo! Brazo! 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 Questa è schifo! Allora! Si si! È jumpy, tecno! Ragazzi, prima quel bastardo lì mi è preso in faccia, adesso provo a fare altrettanto. Ci provo. Oh! 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 Che cosa? Fuca! Oh! Oh! Non puoi sbagliare col pallone giallo! Oh! Non puoi sbagliarlo! Oh! Oh! Anfame! Oh! Oh! Fuori! Sei fuori! Ciao! Salve a tutti ragazzi, sono il vostro cuore matto Mike e sono pronto a fare, anzi utilizzerò una tecnica che è vietata su tutti i campi da calcio. Magari voi la conoscerete come il tiro dell'airone. Il tiro di sinistro, eh! Ok! Kung Fu Panda, eh! Oh! 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 Ci sta! Non ho paura di te! Ma io perché ragazzi ho segnato il Camp Nou, ho segnato lo Juventus Stadium. Guarda l'Olimpico ha segnato. Ha segnato l'Olimpico. Cioè, andai qua, no? Ho presentato... Fuori! Ha segnato dappertutto! Io gli farei fare un ultimo tiro bonus. Allora, no, tirati due con la puntazza, tu tiro senza la puntazza. Tiro bonus! Il tiro della vergogna! Ciao! Eh, vabbè, 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 vabbè! Era meglio se non lo faceva! Ragazzi, i finalisti! Cioè, ammazza che pippe! Ragazzi, però! Robert, Cantè e Branzuglio! Aspetta, aspetta, posso dire una cosa? Allora, lui ha segnato con muri, ok? Ok, jumpy deck e jumpy deck in corta. Ragazzi, c'è da dire che loro si stanno facendo un po' i conti senza l'oste, perché non ne farò passare manco una, quindi... Primo tiro di Mister Cantè! Beh! No, che action! Oh, miseria! Ora, segno! Oh, sì! No, che a te non passo io! Che a te faccio! Oh, sì! Oh, sì! Oh, sì! Oh, sì! Oh, sì! Oh, no! Oh! Oh, sì! Oh, sì! Oh! Oh! Devo fare per forza due su tre! Sono cadato lui, il doppio! Oh! Oh! facilissimo ragazzi, beh il primo è andato male anche per il primo ultimo tiro non se passa allora fai cagare è una cosa, c'è la prima jump addio questione, posso già vincere senti gli uccelli del Mario pure mamma mia no, questo è il furbaccio sentilo ecco, direi che sta bomba così se la magna vai Roberto Carlos attenzione, potrebbe vincere è sparito anche l'uccello del Mario pure magari portava fuori sarà quello che portava fuori brazzo 2 pari 2 pari finale, finale a oltranza a oltranza 1 per 1 come i rigori brazzo dai se sbaglio cazzi miei can te devo segnare per forza ragazzi ragazzi, senti vengi in porta ma bravo, tutti contro di te ma così senti il corpo benjamin price vabbè, metto capiammelo pure a me benji price oh, te pago ragazzi, è benji ragà, è benji ragazzi, non finita ragazzi mi si è appassata la figlia ragazzi se l'attasso, l'attasso è vabbè, è vabbè fanno change ragazzi perché murri? rivolgiamo murri in porta ragazzi sono venuto qui a parare quel rigore a brazzo ho dato il mio continuo se murri la para minchia se murri la para minchia murri aah 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 se non aveva la cornocchia ragazzi eccola aah 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 domani pollicezino posto 50.000 like per una prossima challenge su cento cinquantamila al burger di due chili esatto mi raccomando mangiamo insieme la carbonara che sto per fare io va bene panino e carbonara trovate canali tutti in descrizione questa è la settimana illuminata ringraziamo sports easy di trigoria ci vediamo prestissimo un nuovo video vi mandiamo un abbraccione un salutone e ci vediamo gente